Dov'è il festeggiato? Dai che dobbiamo prepararci che arrivano tutti! Dai! C'è un vento assurdo! Assurdo! E allora ci vestiamo o no? Dai! Mmm! Di chi è? Il tuo! Il mio! È tutto a pittoria! Riuscite a vedere la bellezza del 4 che ho fatto? Cioè, ammirate! Questo è un 4! Queste sono le mie ciabatte, sì! A mano e non piacciono! E questo è il festeggiato! Auguri! Non arriva nessuno comunque alla tua festa, sai? Perché? Eh, non le so! Ma perché non arrivano? Dici! Ah! Ma ma! Musica 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 Musica